a a cazzo fai brusco l'araccia aspetta pensavo ma pensavo non è neanche giusto come no ti giuro no no sei tu bene? si si perchè ho sentito un sacco di nervo ho sentito un sacco di nervo ho sentito un sacco di nervo ah ok guarda qua è importante vedi poi perchè devi provare è strano c'è ma come senti tipo bruciore dolore e pitta qua qua da me ha rotto il muscolo è simile no come noi non è neanche tirato non lo ha tirato forte giuro no 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 è una cosa tanto pericolosa se c'è trauma ma dove? qua? i legamenti ma se tu premi senti? no 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 io ti dico che qua non ci sono questi sensi di dolore si si c'è come quando forse rompe carne rimane questo bianco si 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 questo è il telefono mi hai trovato proprio questo telefono non succede non succede tanto non succede tanto bene bene scusa il dolore va proprio di qua con la nervo non so cosa ho detto qua ma ancora una volta bene vedi si può anche si si op vedi adesso perché vuoi il piatto metto così e questo e questo e questo e questo e con questo devi provare a chiuscire andiamo andiamo a chiuscire a trovare hop parto e quindi prova a me tanto ma anche prima crampi a piede magari per quello non ho dolore non ho dolore forte però bruciore come si boffia bene come prova o si va provare infirare oh e puoi usarti anche con il braccio con il camere a me oh ok io voglio aspetta aspetta lascio non trovo dai o qua già sento così è meno importante che questo andrà qui ma anche no no l'importante è che prima di cadere i tuoi fili brazza no aspetta adesso già sento no 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 tu puoi testo attaccare il mio tolone no no questo questo funziona se giuro prendi sotto no sotto eh si si lo stesso lo stesso lo stesso sotto tolone come era sotto sotto ma questo dove lo stesso qui fai con destra poi infirici sotto 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 tolone poi sotto sotto tolone qua ah ok sento 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 però invece sei inserito infilato però prima di cadere devi tirare dentro il braccio il braccio è il braccio il braccio è il braccio è qui da solo entri però devi fare un ruolo Grazie.